Il Comune di Teramo ha avviato i lavori per il piano urbanistico comunale PUC, un nuovo strumento previsto dalla legge regionale del 2023 che sostituirà il precedente piano regolatore regionale. Il PUC, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro un anno e mezzo, rappresenta un passo fondamentale per la pianificazione del territorio. Durante la prima commissione dedicata all'assessore, Graziano Ciappanne e un team di esperti hanno presentato le linee guida del progetto basate su uno studio approfondito del contesto cittadino. Ieri abbiamo portato in commissione consigliare il documento di indirizzo preliminare dove vengono illustrate le strategie e gli obiettivi da perseguire per poi porre a base sulla redazione il piano urbanistico comunale. L'elaborazione del PUC è partita da un'analisi dettagliata della città di Teramo, che ha considerato gli aspetti geografici, produttivi, urbanistici, edilizie e sociali. Questi studi commissionati dall'Università di Camerino e Teramo hanno delineato uno scenario complesso. Le grandi novità sono il consumo del suolo pari a zero, questo è già imposto alla normativa regionale, però è già nel programma di mandato del sindaco fare un piano regolatore con il consumo del suolo pari a zero. Il PUC dovrà affrontare queste sfide e promuovere politiche di sviluppo capaci di sostenere la produzione e rispondere alle necessità di cittadini. Come sottolineato dall'assessore Ciappanna sarà fondamentale il coordinamento con altri strumenti comunali come il piano urbano di mobilità sostenibile, PUMS e il piano del verde attualmente in fase di definizione. Sarà un piano partecipato, noi per la realizzazione di questo PUC abbiamo intenzione di fare una partecipazione, una comunicazione davvero attiva con la cittadinanza, con i portatori di interessi, con gli ordini professionali affinché il piano urbanistico comunale sia davvero confacente con le aspettative della cittadinanza del territorio.